Benvenuti e benvenuti in questo video, sono CapriKamer e oggi siamo tornati, oggi siamo in una bedwars, siamo su minecraft con salvo Ma inizia la scusa Che è sto ecco? Ah giusto mi stavo dimenticando una cosa 3, 2, 1 Ok ora posso Ok c'è stato un piccolo cambio, ci sono state le cuffie Si ma stavolta non l'ho mai vista, è bellissima Bello siamo sui pixel Finalmente ragazzi c'è un minecraft premium Allunghia Tieni gioco buttati C'è gente Oh Manco tempo, manco il tempo Muori, manco il tempo Oh no, guardavo Questa versione è un pochino tutto non adatta Sei morto? Anche i rossi, anche i rossi, addio, si sono circondati La prima non vale, la prima partita è vero La prima non vale Vai, l'ultimo pezzo di oro vai No, forse hanno 8 Bu, non lo ricordo Ok Chieri vieni Chieri vieni A posto No, no, perché mi ero spaventato Ti sento il mio gatto e non ci pare caso No All'attacco E volevi Sto qua ha provato a farci cadere Non ce l'ho fatta Bro, oddio Sto laggando Sto laggando Dai, anch'io Ci ho ripensato, meglio scappare Sei morto? Ma come fai tanto così velocemente? Ma io prendo le TNT, guarda Sbriqui che uno Vai, una, pensi che ci basta uno Vai, vai, sbrivi che stanno andando Qua sono No, mi hanno fatto cadere quella di tutti Va, 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 va Guardi L'ho ucciso, se ne è caduto Ne ho ucciso uno Tu che ne ho ucciso Lo vedo Sì, vabbè, ci vuole fare esplodere con la TNT, te lo dico Si, l'hanno buttata Ma guarda, guarda Muori Guarda, come punto grafici, non mi trovo bene Cioè, non mi prendeva Attendo che stai andando altro Sto salendo Sto salendo Sto salendo Sto salendo di te, di te, ecco Sto salendo Stai, stai Stai Buttalo giù Rolando E' andato giù Bravo Vai E' un altro salendo Sto salendo Piccolo cuccio Vieni qua AliGamerYoutube, vieni Sei quello che sono un youtuber, AliGamer Beh, ora ti becca da qua Guarda te Nooo Stavo volando Che brutta cosa Stavo volando, praticamente Che brutta cosa Questa è la mappa che abbiamo fatto prima? Mi sembra Sì Guarda la musica Sì, queste No, ok No, cioè, da l'altro sembra strano Senti io ti do il ferro e tu bida l'oro Perché mi faccio la scuola Guardiamo a cavolo di cane Però se guardiamo con legno è meglio Sì lo so sarebbe molto Meglio Chi è che mi manda un messaggio mentre registro? Chi osa mandare un messaggio mentre registro? La mela d'oro o tre di oro? Sì Arrivano i blu Dove? Qua Aspetta 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 Spero che tu sia pronto Stanno arrivando? Guarda Ok Bello Ci dobbiamo fare Guarda Dovevo andare Il blu Il blu non vi avvicinare Ecco Bravo Se fai le TNT andiamo del blu Il blu non vi avvicinare Il blu non vi avvicinare Il blu non vi avvicinare Madonna Madonna Caduto È caduto Sono caduto Pure tu sei caduto Ucciso 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 Vabbè 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 Quanti sono Va bene Mi stanno arrivando? Sì Ehm Infatti è meglio ci aiuto Spacca 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 dobbiamo andare insieme si non ti pare caso se non è un gatto ecco se come stanno bordando questo che danno? che danno? bravo secondo me stiamo sbagliendo aspetta aspetta non c'è andare vieni ok armiamoci bene prima eh sì però dove sta andando là rosa rosa vieni ecco l'ho detto sei chiuso muori per poco è blu è arrivati più muori guardano tutti a colpo di dove ci arrivano sì 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 eh barda barda ve lo dire oddio fammi impartare un po' col legno c'è barda il legno ehi ehi qua 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 vieni 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 il rosa è rosa arrivo 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 ammazzanti eh ma vaffanculo pezzo di madre di un rosa guarda non mi prende 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 mi devo armare come cazzo fa non mi prende non mi prende non mi prende ti rendi conto non mi prende salvo salvo se è andato allora se questo video di oggi vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like e scrivete nei commenti se volete un prossimo video sulle bedwars io ve le porterò subito perché tanto che non facciamo le bedwars e ora che c'è pixel le faremo meglio si spera non siamo stati bravi in questo in questo video abbiamo avuto difficoltà perché a tanto che io a tanto che io non faccio bedwars quindi diciamo che abbiamo già andato più per camperare per fare così ci abbiamo provato dai ci abbiamo provato se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video bello ragazzi ciao